Grazie a tutti del ciclo di catechesi dedicato al dono della Dina Volontà questa è la puntata numero 50 andiamo verso la dirittura di arrivo di questo lungo cammino che abbiamo fatto insieme alla scoperta di questo dono e nelle ultime puntate come ricorderete abbiamo insieme imparato come si rifanno gli atti della nostra esistenza nella Dina Volontà ricordando come Gesù e Maria nella vita terrena che hanno speso hanno avuto questa occupazione più che preoccupazione cioè di rifare tutti i nostri atti nel Divino Volere quindi di presentare a Dio la vita di ciascun essere umano vivente sul pianeta Terra come sarebbe dovuta essere se tutto fosse andato secondo i suoi disegni e secondo i suoi voleri è una cosa molto bella ed è una cosa anche molto santificante è bello quando incontriamo qualcuno per strada anche un'anima che non abbiamo mai visto un passante che magari percepiamo dalla faccia che sta messo un pochino male come si dice nel parlare comune è bello e assai consolante pensare di questo fratello di questa sorella figlio mio, fratello mio se tu sapessi insomma che c'è qualcuno che ti ama assai e che ti ha non solo che ti dà la possibilità di ricostruire la tua vita ma che ha già ricostruito tutta quanta la tua esistenza ecco quindi io raccomando certamente queste sono prospettive sempre di di fede no e misteriose perché noi non sappiamo non possiamo come dire conoscere nel dettaglio con certezza trattandosi di cose appunto eminentemente spirituali cosa succede facendo una cosa del genere certo che c'è da presumere che succeda veramente qualche cosa di bello e qualche cosa di grande insomma perché quello che abbiamo imparato insomma dagli iscritti quello che abbiamo visto sulla potenza del Fiat Supremo è davvero grande è sconvolgente è impressionante insomma è vero che i prodromi le basi e anche diciamo così molto più insomma un avviamento un'introduzione lo troviamo nella Sagra Scrittura lo troviamo nel Magistero della Chiesa nella vita della Chiesa nella Dottrina dei Santi per carità però è anche vero che alcune perle che ci vengono dagli iscritti di Luisa non si trovano quindi sono delle risorse a nostra disposizione davvero davvero grandi che io personalmente io ci credo personalmente ci credo assolutamente nella loro potenza e continuo personalmente l'ho già detto a ritenere che questa è una strada sicurissima non sicura di santità dove non ci sono nessun tipo di possibile controindicazione nessuno anzi ci sono solo tante indicazioni in vista di un bene di un bene grande di un bene grandissimo e nella mia vita una semplicissima poverissima vita insomma una vita comunissima però una vita che è stata caratterizzata specialmente da un certo punto della mia esistenza quando avevo circa 20 anni da un forte amore verso il Signore che da prima mi ha un pochino cambiato programmi di vita e poi mi ha accompagnato nel corso della mia esistenza io riconosco insomma tutta quanta l'assoluta perfettibilità e imperfezione di tanti passaggi insomma della mia vita ma da quel lontano 1991 io ho cercato in tutti i modi possibili veramente di conoscere sempre più e sempre meglio il Signore mi sono letto da tutto e di più ma non per atto proprio perché era un desiderio grande perché io volevo in qualche modo conoscere capire cosa volesse il Signore come si potesse fare a farlo contento a diventare santo se vogliamo dire quindi non ho conosciuto veramente tante insomma quindi sono stato in contatto anche con tante realtà ecclesiali con tante spiritualità con tanti movimenti con tutto quello che volete io non l'ho mai visto e mi rendo conto che ancora ho una conoscenza non esaustiva degli scritti di Luisa ma io non ho mai trovato un itinerario così autenticamente santificante cioè che ti mette in condizione perché nella divina volontà spero che abbiamo imparato sei tu e Dio cioè oltre che essere una spiritualità come dire chiamiamola così ma non è una spiritualità questa qua non so neanche io bene come chiamarla però come dire è una è un mondo altamente come dire nobilitante l'essere umano è un mondo altamente responsabilizzante cioè un mondo che ti mette davanti a Dio tu e Lui e e ti apre degli orizzonti dei mondi e nel rispetto più assoluto proprio più sovrano diciamo così della tua libertà e ti prospetta grandissime vette grandissimi orizzonti ti apre delle come dire delle prospettive assolutamente inedite inaudite ti riempie la vita di gioia d'accordo perché ti ti mette direttamente dentro e l'orbita dentro il mondo dell'amore di Dio da cui ti senti completamente avvolto circondato in tutte le sue spaccettature ti mette proprio dentro nel cuore per esempio della della vita della chiesa cioè io lo posso insomma testimoniare io ho sempre amato la chiesa ho sempre servito la chiesa ho sempre voluto bene la chiesa ho sempre tutto quello che volete ma di più d'accordo cioè è tutto un di più che ripeto adesso siamo le ultime credo tre catechesi bisogna viverlo bisogna farne esperienza per comprendere tante cose adesso queste ultime tre catechesi vorrei oggi dedicarla a uno scritto stupendo che ci riporta un pochino al cuore molti si chiedono questo atto unico del Fiat Supremo che cos'è questo atto unico c'è uno scritto che parla proprio spiega questo che la divina volontà è un atto solo immenso ed eterno che contiene tutto insieme è quello che andremo a vedere oggi creazione redenzione e santificazione poi le ultime due puntate vorrei dedicarle a Maria Santissima perché l'imperatrice del regno della divina volontà merita di essere la corona ecco di questo ciclo di catechesi e teniamo presente che soprattutto negli ultimi volumi nell'ultimo in particolare che troviamo le pagine più belle sulla Madonna io le leggerò alcune cose che le veramente portano su un altro orizzonte e al termine di questo percorso sicuramente si avrà un rinnovato amore per Maria Santissima anche qui non è un mistero insomma che ho una vita che mi si passi il termine sono un po' innamorato della Madonna insomma da oltre vent'anni da un bel po' e dopo averla conosciuta meglio ecco perché devoto alla Madonna siamo sempre stato fin da quel lontano 1991 ma non conoscevo non immaginavo insomma la grandezza che avesse questa creatura fino a quando non ho conosciuto gli iscritti di San Luigi di Monfort anche qui da questa partenza nel 1998 quando da solo da autodidatta insomma quindi da pioniere feci la consagrazione a Toto Stus è cominciato anche qui un percorso un giro a proposito di giri interminabile mi sono letto di tutto e di più ho letto la mistica città di Dio di Maria da Credo ho letto le glorie di Maria ho letto gli iscritti del padre Ragazzini mi sono studiato tutte le apparizioni marianne che conosco insomma riconosciute non riconosciute ho scritto pure un libretto insomma anche qui il desiderio di conoscere sempre più sempre meglio la Madonna sapete che ci fu il più grande mariologo del secolo scorso scrisse un testo con capolavoro che era Madonna negli iscritti di Maria Valtorta padre Gabriele Maria Roschini voi pensate che questo Roschini nell'ambito della teologia e della mariologia cattolica è un'autorità indiscussa Roschini fece gli ultimi anni di lezioni di mariologia al marianum avendo come libro di testo una Madonna negli iscritti di Maria Valtorta che è un libro cioè stupendo d'accordo che fa vedere proprio emerge una bellezza viva della figura della Madonna straordinaria io pensavo che fosse insuperabile un testo del genere veramente perché ti sembra quasi di toccarla con mano cioè la Madonna degli iscritti di Maria Valtorta e la mistica città di Dio di Maria da Greda stanno su un altro pianeta proprio è quanto di più bello a mio avviso sia mai stato anche perché sembrano essere autobiografici quindi c'è proprio come dire la vita vera della Madonna quindi non la ricostruzione per quanto bella e santa che hanno fatto gli agiografi no però alcuni passi cioè io quando ho visto la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà che è il primo testo mariano cioè è il primo testo che mi ha introdotto nel mondo della Divina Volontà che io non conoscevo io sono rimasto congoratico cos'è sta roba qui cioè mi ha aperto mi ha portato ad orizzonti a prospettive che io neanche lontanamente sogniamo cioè io ho imparato che la Madonna era immacolata che era piena di grazia che stava su un altro pianeta che tutti i suoi meriti erano infiniti che è più facile contare le gocce del mare i grani di sabbia piuttosto che meriti virtù della Madonna ci ho sempre creduto non ho fatto mai nessuna difficoltà a credere che da sola la Madonna facesse più di tutti gli angeli santi messi insieme l'ho predicato anche negli anni dietro per carità ma quando lessi la Vergine Maria della Divina Volontà quando meditai io rimasi sconvolto folgorato dico ma che cos'è cioè qui è molto di più pensavo di avere insomma una buona conoscenza una buona conoscenza dico ma che cos'è e se uno va a leggere poi alcune cose negli scritti specialmente negli ultimi volumi sapete che gli ultimi volumi ecco diciamo coroniamo anche un po' questo ciclo di catechesi andando a volare in alto proprio sulle alte vette no proprio al termine quindi quando la dottrina della Divina Volontà ormai era bella che completata tratteggiata quindi anche Luisa insomma erano quasi 50 anni che stava dietro 80 e 50 no ma 40 sì e insomma ne sapeva tante cose no e gli mette queste chicche che le vedremo nelle prossime due catechesi dico mamma mia dico cioè anche lì si va ancora oltre la Vergine Maria nel regno della della Divina Volontà perché ci sono alcune cose scritte e attribuite alla Madonna che uno rimane semplicemente a bocca spalancata e inevitabilmente la considerazione e l'amore che ha per Maria Santissima non può non crescere in maniera esponenziale per quello che ha fatto per noi questa divina creatura insomma no bene quindi questi sono in sintesi il percorso che ci attende in queste ultime puntate cominciamo da quella di oggi il testo del 24 ottobre del 1925 e siamo nel volume 18 quindi il volume 18 siamo proprio a metà quindi siamo alle scuole superiori diciamo quindi già per capire bene queste cose bisogna aver ascoltato qualche buona catechesi sulla Divina Volontà no leggo il testo trovandomi nel solito mio stato il mio dolce Gesù me lo sentivo muovere nel mio interno in atto di stendersi in me come se si mettessi in agonia io sentivo il suo rantolo di agonizzante e mi sentivo anch'io agonizzante insieme con lui onde dopo di aver sofferto un poco insieme con Gesù mi ha detto figlia mia il pensare alla mia passione il compatirmi nelle mie pene mi ha molto gradito sento che non sono solo nelle mie pene ma ho insieme con me la compagnia della creatura per causa della quale io soffro e che amo tanto e avendola insieme con me il patire mi si rende più dolce come è duro l'isolamento nel patire quando mi vedo solo non ho a chi affidare le mie pene né a chi dare il frutto che le mie pene contengono e perciò resto come affogato di pene e di amore e perciò al mio amore non potendone più vengo da te per soffrire in te tu insieme con me le pene della mia passione in atto per ripetere ciò che io feci e patì nella mia umanità il ripetere la mia passione in atto nella creatura differisce da chi solo pensa e compatisce le mie pene quello è un atto della mia vita che si mette al mio posto per ripetere le mie pene ed io sento ridarmi gli effetti il valore di una vita divina invece il pensare alle mie pene e il compatirmi è la sola compagnia che sento della creatura ma tu sai in chi io posso ripetere le mie pene in atto della mia passione in chi sta come centro di vita la mia volontà metto punto perché questo che abbiamo letto è un po' un modo di introduzione adesso poi Gesù parte a spiegare il mistero dell'atto unico del Fiat Supremo allora la premessa è molto semplice noi sappiamo che tra i doni che aveva Luisa e lo hanno avuto anche altri santi però d'accordo c'era quello che spesso e volentieri non solo Gesù attenzione le faceva rivivere le pene della sua passione la differenza è sottile ma andava lui a ripetere alcuni momenti della sua passione in Luisa come qui spiega e questa è una cosa enorme perché come spiega Gesù stesso non si tratta semplicemente di un atto di amore graditissimo fatto a Gesù che è il fargli compagnia nella sua passione che è il pensare le sue sofferenze pensarci con amore e fondere i propri affetti dinanzi a quello che Gesù ha sofferto per noi fare i nostri atti dirgli la nostra gratitudine queste sono cose facciamole sono cose da portare a tutti graditissimi a Gesù e le ore della passione anche un pochino ci aiutano in questo ma qui c'è qualcosa di più c'è il ripetere la mia passione in atto nella creatura e quindi è un ridare a Gesù gli effetti e il valore di una vita divina pensate a quanto bene fa può fare una cosa di Gesù a quanto bene ha fatto no? ma se si leggono gli scritti anche da fin dai primissimi i volumi molte volte per esempio il confessore ordinava a Luisa di dire a Gesù che gli facesse rivivere la crocifissione perché questo valeva a storno per fermare alcuni castighi decretati dalla divina giustizia questa è una cosa che si trova in continuazione molto anche nei primi volumi quindi ancora quando ancora non c'era ben definito insomma questo dono della divina volontà no? quindi Luisa l'ha spiegato il tratto caratteristico me lo sentivo muore nel mio interno in atto di stendersi in me come se si mettessi in agonia io sentivo il suo rantolo di agonizzante e mi sentivo anch'io agonizzante insieme con lui quindi capite non è che Gesù gli sta facendo provare a Luisa il Getsemani ma lo sta rivivendo in lei ecco da questa premessa Gesù dice in quale anima io posso compiere quest'operazione che è un'operazione del tutto singolare cioè che è in parte uguale ma in parte differente da quella conosciuta diciamo così nella mistica classica Santa Caterina da Siena ha ricevuto da Gesù la corona di spine che gliel'ha messa in testa Santa Veronica Giuliana ma sono una montagna insomma di santi che hanno rivissuto le pene di Gesù d'accordo ci sono stati stigmatizzati il più famoso è padre Pio non è stato solo lui insomma quindi tante cose d'accordo ecco però questa ha questa peculiarità particolare e Gesù spiega questa cosa io la posso fare solo in chi ha come centro di vita la mia volontà e riprendo la lettura così lo spieghiamo a tratti altrimenti leggere fino alla fine perché è troppo lungo ci scordiamo le prime battute solo la mia volontà è un atto solo attenzione che non ha successione di atti quest'atto solo è come fissato ad un punto che mai si sposta questo punto è la eternità e mentre è un atto solo attenzione qui andiamo un pochino in alto però questa è la divina volontà è atto primo atto interminabile però la sua circonferenza è tanto immensa che nulla le può sfuggire abbraccia abbraccia tutto e tutti con un solo amplesso partendo tutto da quell'atto primo come un solo atto sicché la creazione la redenzione e la santificazione è un atto solo per la divinità e solo perché è un atto solo tiene la potenza di fare suoi tutti gli atti come se fossero uno solo ecco la divina volontà che cos'è comprendere queste frasi ci aiuterà anche a ripercorrere a rivedere per esempio tutto l'altro il discorso sui giri della divina volontà no? allora è chiaro che qui siamo in concetti che sono trascendenti per il nostro intelletto perché per noi immaginare un atto solo che non ha successione di atti ed è questa la semplicità assoluta di Dio quindi l'assenza di ogni forma di composizione ontologica e di successione temporale non c'è in Dio non ci sta però dice ma io questa cosa non riesco a capire allora figlio mio cioè qui non si possono queste perfettamente capire si può dare uno sguardo veloce qui bisogna ricordare Sant'Agostino che diceva attento cioè noi dobbiamo sforzarci di conoscere per quanto è possibile Dio ma attenzione si comprehendis diceva in latino non est Deus cioè se tu lo potessi perfettamente comprendere non stai dinanzi a Dio per un motivo molto semplice nella nostra mente umana per comprendere qualcosa etimologicamente comprendere significa prendere insieme prendere con cioè se io prendo qualcosa vuol dire che questa qualcosa è più piccola di me deve essere alla mia portata ma Dio è più grande di me finalmente più grande di me Dio è trascendente cioè questa cosa è simile questo concetto a quello espresso da Dio stesso quando definì il suo nome a Mosè io sono colui che sono io sono l'essere significa questa cosa la gente comincia a pensare ma questi sono concetti astrusi sono concetti filosofici d'accordo San Tommaso ha cercato di spiegare queste stesse cose certamente usando i termini della filosofia aristotelica che adesso sono tanto quanto vituperati disprezzati se uno conosce bene la filosofia aristotelica e segue il discorso che fa San Tommaso capisce qualcosa di Dio d'accordo della Trinità sempre qualcosa allora è un atto solo che Gesù dice è fissato ad un punto che mai si sposta non si sposta e non ha successione di atti questo punto è l'eternità però dobbiamo immaginare questo punto come un enorme un enorme cerchio un enorme circonferenza diciamo così un enorme cerchio dentro il quale sono racchiusi tutto quello che è successo nel corso del tempo e della storia ecco perché parla della creazione della retenzione e della santificazione è tutto compreso in un unico atto e tutto quello che noi vediamo scorrere al di fuori di questo punto nel tempo cioè tutta quanta l'indefinita sequenza di atti quanti atti ho compiuto da quando cominciò la catechesi nessuno ne sa numerare quante parole ho detto quanti pensieri ho fatto quanti gesticolamenti ho fatto quanti sguardi ho fatto cioè con 20 minuti che stiamo con 24 minuti che stiamo con non sa quanti quanti ho fatto ecco quindi questa nostra successione in dio non c'è ma tutto quello che si sta muovendo adesso in quello che sto facendo è in dio d'accordo ed è in dio sotto due registri ecco perché rifare gli atti nella di no dobbiamo sempre ricordarlo è in dio nell'atto unico con la perfezione assoluta di ciò che in tutto sarebbero dovuti essere i miei atti d'accordo ed è in dio nella imperfezione relativa che sono tutti quanti gli atti che sto compiendo che possono essere più o meno difformi da quello che lui abbeterna per me pensato d'accordo ci abbiamo capito per cosa speriamo d'accordo ora se io entro nella divina volontà cosa succede succede che mi vado a mettere dentro questo punto eterno dove comprendo tutto pure io ecco perché se io entro nella divina volontà e faccio un giro io posso portare ma non ci vuole niente da un punto di vista logico è facilissimo comprendere il concetto se in quel punto c'è tutta la storia io entrando in quel punto con un atto di volontà d'accordo spirituale perché l'atto di volontà spirituale mi ci porta lì dentro anche se è un mondo trascendente che io non comprendo e io dico in questo punto ci sono gli atti di tutti e io li prendo tutti quanti mi ci metto il mio ti amo nel divino volere e te li riporto in modo tale che tutti quanti gli atti compiuti dalle creature per esempio in questo giro che sto compiendo guardando adesso il sole ti giungano con un grande ti amo ti benedico e ti ringrazio come se tutti te l'avessero detto si può fare proprio perché il Fiat Supremo è così è un atto solo eterno e fisso che non si sposta e che non ha sequenze proseguo la lettura ora chi vive nella mia volontà possiede quest'atto solo vedete attenzione cosa dice Gesù non chi fa la mia volontà ma chi vive nella mia volontà possiede quest'atto solo e non è meraviglia che prenda parte alle pene della mia passione come in atto perché in quest'atto solo trova come in atto il suo creatore che crea la creazione e lei formando un atto solo col suo Dio crea insieme scorrendo come un solo atto in tutte le cose create e forma la gloria della creazione al suo creatore il suo amore brilla su tutte le cose create gode e prende piacere di esse le ama come cose sue e del suo Dio in quell'atto solo lei ha una nota che fa eco a tutto l'operato divino e dice nella sua enfasi d'amore ciò che è tuo è mio e ciò che è mio è tuo sia gloria onore e amore al mio creatore ora chi conosce la consagrazione totus tuus per esempio ha riconosciuto in questa frase finale esattamente le stesse cose che il consagrato totus tuus dice e può dire e deve dire alla Madonna se ha fatto questa consagrazione e se la vive e viceversa la Madonna può e deve dire al suo consagrato cioè ciò che è tuo è mio e ciò che è mio è tuo allora vivere nella divina volontà ed entrare in questo atto unico vuol dire anche cioè ragazzi partecipare alle opere di Dio come se fossero le tue cioè tu diventi creatore dell'aria dell'acqua dell'universo delle galassie eccetera eccetera come se le avessi fatte tu ciò che è suo è mio e ciò che è mio è suo sia gloria onore e amore al mio creatore quindi cioè diciamo questa volontà divina di rendere gli uomini partecipi di alcune sue prerogative a noi per esempio non ci deve troppo stupire ma che te ma scusate ma due persone che mettono al mondo un figlio cosa fanno partecipano dell'opera creatice di nostro signore punto d'accordo adesso a prescindere da tutto quanto il discorso perché oggi è così non è così perché lasciamo perdere due persone che mettono un prete io finito la catechesi andò a celebrare la santa messa che consacro ma cosa faccio io io faccio un'operazione divina cioè non faccio mica un'operazione umana è Gesù che ha voluto dare l'onore ad alcuni membri della razza umana di poter compiere i stessi atti ha compiuto lui e io li compio io non dico quando consacro questo è il corpo di Cristo lo dico quando lo distribuisco il corpo di Cristo ma quando consacro io dico questo è il mio corpo ma quello non è il corpo di Don Leonardo è il corpo di nostro signore Gesù Cristo che parla in me d'accordo cioè io quando consacro sono completamente fuso e medesimato con Gesù Cristo divina volontà o non divina volontà fa niente d'accordo e questa operazione perché avviene per un atto eterno del Fiat Supremo che ha stabilito ab eterno che alcuni uomini avessero una tale incorporazione e fusione con Cristo che potessero compiere delle operazioni divine tra cui quella di rendere partecipe di prolungare nel corso del tempo della storia il sacrificio della croce perché questa è la messa e per fare questo ci vuole un potere divino perché io un pezzo di pane farò diventare corpo di Cristo non è capace nessuno a farlo per gli esseri umani e un pezzo un sosto divino farò diventare sangue di Cristo capito? quindi non deve darci troppo stupore il fatto che entrando nel Fiat Supremo e vivendo in questo mondo ecco perché cioè vi ricordate le catechesi in cui si evidenziava e si sottolineava nelle prime catechesi l'importanza per esempio di conoscere alcune cose cioè come faccio io anche lontanissimamente andando ad immaginare una roba del genere cioè che con un atto di volontà io posso entrare in questo mondo divino che è il Fiat Supremo e beneficiare tutti quanti i suoi effetti in me cioè compiere vi ricordate atti non più solo umani ma divini quindi con una portata santificante infinita per me e per tutti ma al tempo stesso di venire partecipe delle opere stesse di Dio d'accordo cioè quando si entra in questa dinamica è chiaro che il nostro rapporto con la creazione cambia no? io posso dire ogni tanto quando c'è qualche animaletto che gira per casa un po' fastidioso io ho qualche difficoltà che prima non c'avevo a prenderlo e schiacciarlo come se posso evitare lo faccio insomma d'accordo nei giorni scorsi c'era un animaletto di come facciamo ci siamo inventati una cosa abbiamo apriato un bicchiere siamo riusciti insomma a buttarlo dalla finestra senza togliergli la vita perché quello è quello purtroppo quello è un attimo di Dio in atto quello lì d'accordo l'ho fatto io quell'animaletto cioè fa parte di una specie del regno animale capite cioè cioè si fa io ritengo insomma che misteriosamente ma non era molto molto bella hai visto quando San Paolo dice abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù no? e come faccio gli stessi sentimenti di Gesù? eeeh devo entrarci in qualche modo in questa in questa umanità no? di Gesù e come ci entro? così ci entro anche la stessa consagrazione totus tuus che tante volte abbiamo io ho avuto modo di di sottolineare è a mio avviso assolutamente propedeutica d'accordo anche per questo regno e non è certamente un caso che San Luigi Conforte sia vissuto a cavallo tra il 1600 alla fine del 1673 al 1716 questa è la della dinastia di morte di San Luigi quindi è tre secoli prima rispetto alla diffusione e al dono della divina volontà quindi c'è stato tanto tempo è vero che poi il trattato è rimasto nascosto quindi è venuta la luce dopo la rivoluzione francese quindi intorno al 1815 1820 no? comunque sono passati in altri quasi 200 anni prima di e quindi questa cosa ha potuto in qualche modo cominciare ad entrare no? perché anche gli atti che si compiono in Maria o per mezzo di Maria lo ricorderemo hanno come potenza anche se sensibilmente non accade niente il fatto di purificare le nostre azioni dalle imperfezioni con naturali e intrinseche nel fatto che ci portiamo l'eredità di Adam quindi questa purificazione la Madonna continua ad operarla l'abbiamo visto nelle puntate arcaiche ma entrando anche nel Fiat Supremo quindi andando oltre ancora cioè io non soltanto prendo Maria come purificatrice dei miei atti ma faccio gli atti come li faceva la Madonna cioè in maniera divina quindi sono atti purificati delle scorie che inevitabilmente rimangono nella nostra vita mortale e elevati a dignità divina è bellissimo questo qui no allora proseguo la lettura Gesù ha spiegato intanto come in quest'atto solo trova in atto il suo creatore no quindi nell'atto del Fiat Supremo si trovano in atto come un solo atto la creazione la redenzione e la santificazione prima parola della creazione adesso in questo atto riprendo a leggere solo trova in atto la redenzione sempre la creatura che ci entra dentro la fa tutta sua e attenzione soffre le mie pene come se fossero tuo come se fossero sue anche qui metto subito punto come preghiamo le ore della passione punto interrogativo ripeto soffre le mie pene come se fossero sue anche stamattina c'era una meditazione bellissima dove Gesù spiegava quanto la forma più alta di sofferenza che esiste e più meritoria è proprio quella di prendere le pene dell'amato e farle proprie d'accordo ed essere pronti a qualunque cosa pur di sollevare e consolare l'amato questa è la forma più alta allora se tu vivi nella divina volontà puoi stare proprio tranquillo che questa cosa deve succedere non è che tu ti sforzi a dire ah no adesso io non mi metto a pensare non mi metto a pensare pensiamo a quanto Gesù ha sofferto nella flagellazione e me dovrà usci una lacrima d'accordo no cioè questa cosa come dire avviene quasi spontaneamente quasi naturalmente d'accordo se tu cominci a stare in questo mondo è quel che non può non avvenire perché se tu stai unito nel fiat supremo lì scorrono in atto tutte le sofferenze di Gesù incessantemente a beneficio dell'universo interno non soltanto dell'umanità le trovi lì dentro ci stanno quindi quest'atto solo trova in atto la retenzione la fa sua tutta sua soffre le mie pene come se fossero le sue scorre in tutto ciò che io feci nelle mie preghiere nelle mie opere nelle mie parole e in tutto ha una nota di riparazione di compatimento di amore e di sostituzione alla mia vita cioè capito comincia a vivere veramente in maniera divina d'accordo perché in tutto ciò che fa in tutto ciò che pensa cerca sempre come cioè tu dici penso che tutti quanti noi abbiamo un attimo sperimentato questa difficoltà no per esempio e io questo l'ho evidenziato perché queste sono cose la conoscenza è il primo input necessario che ci mette in questo mondo no e poi la conoscenza deve diventare vita quindi io devo farla entrare dentro di me e cominciare ad esercitarmi un pochino con una certa anche qui e attenzione che in questo mondo più che in altri la legge della CP sapete c'è la legge del CP cioè costanza e perseveranza è assolutamente indispensabile ecco quando si fa un giro per esempio all'inizio quindi andare a prendere ti amo di Dio ricambiarli questo in tutte le cose quando mangio quando dormo e quando vedo il sole quando sto a contatto anche con le altre creature qualunque cosa è un esercizio spirituale che richiede l'attenzione d'accordo non viene spontaneo farlo da subito d'accordo non viene spontaneo ecco però se con la fatica con l'impegno dell'attenzione con lo sforzo con la costanza si comincia frequentemente a fare questa cosa poi partono in automatico e non partono le cose in automatico perché quando poi una cosa parte in automatico come quando ci parliamo una preghiera a memoria corre il rischio di diventare una cosa che ci scorre sopra in maniera meccanica brutta che non lascia delle cose ma si raffina un attimo la sensibilità la persona questo lo coglie questo qui si coglie d'accordo e si coglie anche il fatto che non è farina del nostro sacco perché uno lo sa come è fatto lo sa che non sono cose sue che non l'hanno mai riguardato che non ci sono mai state d'accordo è una strana coincidenza che compaiono in concomitanza con il fatto che sto cercando di muovermi dentro questo mondo divino è evidente no? d'accordo quindi questa come dire questa sollecitudine questa questa attenzione costante no? vedo una persona che fa un peccato contro di me d'accordo? vengo a sapere una persona che mi ha parlato male dietro allora la volontà umana che cosa dice si risente la volontà umana è di uno che vuole diventare santo che cosa dice domina il risentimento e prega per il nemico d'accordo? Gesù ha detto questo qui non si vendica amati i vostri nemici pregate per i vostri persecutori già è tanto questo qui eh ma la volontà divina cosa fa? la volontà divina soffre non per l'offesa che ha subito ma per il peccato che quel fratello ha commesso perché per quel peccato Gesù versa sangue e la Madonna versano lacrime d'accordo? allora non mi importa niente che quello ha fatto una cosa contro di me mi importa e tanto che questa persona causa dolore sofferenza a Gesù e a Maria questo sì che mi importa e allora qual è la prima cosa che fa? per quanto posso cerco di ripararla quindi faccio un atto d'amore metto un ti amo dentro quel cuore faccio quello che posso perché noi possiamo chissà che cosa d'accordo? e certamente nel limite del possibile ciascuno sempre con a tempo luogo modo e forma opportuna cerco di promuovere il bene d'accordo? che di peccati se ne facciamo sempre di meno e che di bene se ne faccio sempre di più quindi questo accade forse avere gli stessi sentimenti di Gesù cioè non ci interessa più cioè la persona che vive nella divina volontà non interessa più tanto principalmente di se stesso gli interessa di Gesù e di Maria tanto d'accordo? cioè c'è una traslazione capite? ci si occupa delle cose loro e quando si e si lascia completamente a loro il compito di occuparsi delle cose nostre che tanto se ne occupano cioè nella divina volontà si campa non sicuri e distesi di più d'accordo? di più perché ti pare che cioè la potenza del Fiat Supremo figlioni miei cari cioè ma alla volontà di Dio fate che non si può opporre nessuno d'accordo? nessuno a meno che Dio non lo lasci fare nessuno quindi se io sto cercando di vivere unito a questo Fiat ma scusate ma che cosa mi può capitare di male a me? ma chi è che mi può fare del male? ma se mi mette tutto quanto l'inferno ma faccia pure se vuole che se il Fiat gli mette un bel muro di fuoco davanti ma fa il vento tutto quanto l'inferno il vento così come se il Fiat decide che l'inferno abbia da farmi soffrire un pochino di tempo per la sua per i suoi disegni o per la sua gloria faccia pure d'accordo? avrò tutti quanti gli aiuti tutte quante le grazie tutte quanto quello che mi serve per superare la prova la tribolazione e comunque altra cosa basta cioè io vorrei che si comprendesse come cioè la come dire la portata la rivoluzione interiore in senso buono che si produce è devastante in senso positivo chiaramente ed è reale ed è realissima ecco e tutto questo avviene nonostante che all'esterno nulla di eclatante appaia se non che qualcuno che ti guarda o che ti osserva percepisce qualcosa e dice ma che sta succede? che mi sembra che sta persona su alcune cose non sia più la stessa? ecco allora continuo sempre la lettura perciò il vivere nella mia volontà attenzione e li leggo quindi questo atto è in tutto una nota di riparazione di compatimento di amore e sostituzione nella mia vita in questo atto solo trova tutto tutto cioè nell'atto unico del fiat tutto fa suo e dovunque metti il suo ricambio di amore attenzione a quello che diceva Gesù perciò il vivere nella mia volontà è il prodigio dei prodigi è l'incanto di Dio e di tutto il cielo capito abbiamo sentito altre volte l'espressione analoga questa le usa diverse volte Gesù ripeto il prodigio dei prodigi è l'incanto di Dio e di tutto il cielo cioè ragazzi ma io sarò strano ma io se penso che Dio possa rimanere incantato da una cosa che posso fare io scusate ma a me insomma questa cosa mi mi sconvolge un po' in senso buono cioè che Dio guarda con due occhi così ma guarda che bello guarda che sta facendo guarda che sta combinando questo mio figlio guarda che spettacolo insomma questa è tanta roba questo qui è l'incanto di Dio e di tutto il cielo che vedono scorrere la piccolezza della creatura scorrere quest'altro termine tecnico degli scritti in tutte le cose del loro creatore è tutto mio come raggio solare legato a quest'atto solo bellissimo si diffonde dovunque a tutti quindi capite gli effetti benefici anche che una persona cioè io ogni tanto a volte ho ricevuto ho sentito dire eh ti pare che mocco la divina volontà tu fai qualche atto risolvi tutti i problemi della vita dell'universo dico ragazzi stiamoci un attimo tranquilli tu sei padronissimo di non crederci d'accordo né tanto mai questo giustifica disinteressi o quietismi di nessun tipo insomma come se Gesù e Maria sulla terra fossero venuti a stassene rinchiusi tutta la vita in camera a fare soltanto gli atti no non credo che abbiano fatto solo questo hanno fatto anche altro d'accordo sia lui che lei perché la Madonna dentro il tempio 13 anni c'è stata d'accordo la Madonna dentro casa a fare la sposa e la mamma di famiglia c'è stata la Madonna a fianco alla chiesa nascente il giorno di Pentecoste c'è stata d'accordo certo poi ha vissuto la vita nascosta con San Giovanni ma da lì continuava a assistere ad aiutare la chiesa se qualcuno andava a trovare la Madonna gli chiedeva udienza certo non è che la Madonna non la raccoglieva è vero che il nostro Signore Gesù Cristo però ci fa anche capire la proporzione no perché su 33 anni 3 anni si è dedicato la vita pubblica e 30 anni no questo è andaro di fatto questo qui d'accordo non è che questo giustifica il quietismo il disinteresse ma fa capire l'ordine delle proporzioni come cambia il mondo se io mi metto a fare il faccendiere che ne combino e faccio un'azione perpetua disordinata dei marasmi di questo mondo e di quell'altro o se faccio quello che la divina volontà mi fa comprendere essere buono e giusto fare ad impimento perfetto di tutti quanti i miei voleri di tutti quanti i miei doveri e di tutto quello che Dio mi fa capire essere buono giusto e opportuno ma sapendo che chi cambia il moto il corso degli eventi non sono io né quello che faccio è Dio è la potenza del suo volere è la sua grazia e come circola la potenza del suo volere e la sua grazia circola tanto quanto io vivo nella divina volontà e io vivendo in lui mi trasformo in raggio di sole che è come i raggi del sole che partono dal sole raggiungono tutte quante le creature fa niente che quelli non gli dicano grazie al sole ma vengono comunque illuminate quando Gesù spiega vi ricordate questo l'abbiamo parlato in qualche catechesi il bene che fa una persona che vive in questo modo c'è certo se io vado a mettere il mio diamo nel cuore di un peccatore incallito indurito è chiaro che la grazia che questo riceverà da questo mio gesto è piccola ma non è che è piccola in se stessa è piccola perché lui è completamente refrattario ma qualche cosa gli arriva pure a lui sicuro non è sprecato completamente non è sprecato ragazzi oggi oggi è il 12 giugno anzi ieri io oggi ho esultato vedendo il telegiornale si sono stretti la mano Trump e Kim questa è una cosa grossa questa qui non è una cosa piccola è grossa perché se quelli si girano gli giravano 5 minuti qualche mese fa spingevano un pulsante a quest'ora non stavamo a sentire spazio giovane a fare cadesi stavamo tutti quanti al creatore stavamo e se non stavamo al creatore stavamo a piangere lacrime amare perché se sparano le bombe atomiche c'è poco da d'accordo io mi ricordate feci una supplica il 29 di maggio ho celebrato la messa in onore di Maria Regina della Pace e invitai i presenti perché in quei giorni sembrava questo summit dovette saltare sbanchiamo la madonna chiediamo alla madonna che faccia fare questa cosa e questa cosa è fatta e a voi adesso a fare i critici a dire sì ma non hanno formalizzato questo è il controllo della denuclearizzazione ci vuole ma intanto ci sono stretti la mano hanno firmato una carta insieme oh d'accordo questa è una cosa grossa questa qui e come è successa questa cosa vediamo com'è successo che i direzioni sono divertiti a mandare in onda le parolacce gli insulti gravi che si mandavano reciprocamente qualche mese fa e ora sono stretti la mano che cosa è successo è la diplomazia cosa è successo soltanto Dio lo sa che cosa è successo solo Dio lo sa che cosa è successo noi possiamo sognare d'accordo ma questo comunque è successo e se il nostro signore non ci volesse vedere lo sa che è successo sono stati gli atti di INVR che ha compiuto Tizio Caio e Sempronio perché ci ha creduto a tante cose e tutta quanta l'oceano di Grazie che è piombato su questi piomba anche sul capo del partito comunista nordcoreano perché il capo del partito comunista nordcoreano anche se non lo sa è una creatura di Dio d'accordo vive sicuramente lontano da Dio ma è una creatura di Dio pure quello d'accordo non lo possiamo sapere ma sognare non è proibito poi dinanzi a questa io dico sempre qui stiamo nel regno con la divina volontà a me mi sembra il regno delle favole d'accordo cioè questa è proprio una favola questa qua sembra il regno delle favole ma lo dico per minimizzarlo perché dice ma dico ma io lo capisco l'italiano no? dico ma c'è proprio scritto così? sì c'è scritto così c'è scritto così c'è scritto così perciò ti raccomando dice Gesù che mai anche a costo della tua vita tu esca da quest'atto solo della mia volontà è tutto rimanerci fusi a voglia a fatti di fusione a fatti attuali fanno tutto quello che ci pare non bisogna muoversi di una virgola da qui affinché ripeta in te come in atto la creazione la redenzione e la santificazione siamo cooperatori di Dio nel creare cooperatori di Dio nel redimere cooperatori di Dio nel santificare anzi lo facciamo noi stessi con lui quale dignità più alta che può avere un essere umano cioè già ripeto l'uomo è stato nobilitato da Dio ti rendo partecipe di poter creare ti rendo partecipe di poter santificare questo in parte ci sta già nell'uomo perché i genitori e i preti ce l'hanno sta cosa d'accordo ti rendo partecipe del poter redimere quanti secoli so che esistono le anime vittime e che il signore dice soffri e attraverso le tue sofferenze salverò i peccatori e ti tirerò fuori le anime dal purgatorio è sapiena la letteratura geografica di questa roba quindi non è cosa del tutto nuova questa qui ma è cosa che qui si dispiega in tutta la sua potenza allora vedi anche la natura contiene le similitudini di quest'atto solo nell'atmosfera ecco il sole tiene un atto solo da che fu creato da dio fa sempre un atto solo vogliamo capire guarda il sole il sole sappiamo tutti quanti che è una delle immagini più utilizzate nel mondo della divina volontà il sole uno è e sta sempre lì se muove che non se muove su questo ormai dopo tante diatribe storiche ormai l'abbiamo acclarato è certissimo no allora la sua luce il suo calore sono tanto trasfusi insieme che si rendono inseparabili l'uno dall'altro sappiamo che nel sole sono temperature il sole fa luce perché è una palla di fuoco incandescente immensa che brucia sostanze chimiche gas adesso io non sono un esperto non voglio dire stupidaggini ma da tanto tempo e a oia ancora quanto ce n'ha da bruciare no si rendono inseparabili l'uno dall'altro luce e calore d'accordo e sta sempre in atto dall'alto dimandare luce e calore un unico fuoco cosa fa il fuoco illumina e scalda ma è uno solo il fuoco e mentre dall'altro non sa fare altro che un solo atto la circonferenza della sua luce che scende nel basso è tanta che abbraccia la terra no tutta quanta la terra che è rivolta chiaramente verso il sole e che ciclicamente ci va rivolta perché gira intorno a se stessa lo sappiamo no e col suo amplesso produce innumerevoli effetti si costituisce vita e gloria e tutte le cose create in virtù di quest'atto solo c'è nei virtù di racchiudere in sé ciascuna pianta pensate se ci fosse il sole qui sarebbe finito tutto perché le piante vivono per il sole e somministra a chi lo sviluppa a chi la maturazione dei frutti a chi la dolcezza a chi il profumo si può dire che tutta la terra mendica dal sole la vita e ciascuna pianta anche il più piccolo filo d'erba implora dal sole la sua crescenza e ciascun frutto che devono produrre ma il sole non cambia mai azione si gloria di fare sempre un atto solo l'atto unico del Fiat Supremo è fuori di metafora ancora anche la natura umana altra simbologia tipica del mondo della vita di una onontà contiene la similitudine di un atto solo qual è? il palpito del cuore incomincia la vita umana col palpito lo sappiamo tutti quanti l'esserino che una donna porta nel grembo il palpito è l'inizio della sua vita questo fa sempre un atto solo non sa fare altro che palpitare il cuore se ci metti la mano sopra fa solo questo è monotono ma la virtù di questo palpito gli effetti sono innumerevoli sulla vita umana come palpita e ad ogni palpito fa circolare il sangue nelle membra fino alle parti estremi come palpita dalla forza ai piedi per camminare alle mani di operare alla bocca di parlare alla mente di pensare somministri il cavolo della forza tutta la persona tutto dipende dal palpito tanto è vero che se il palpito è un po' stentato si perde l'energia la voglia di operare l'intelligenza attutita piena di dolori è un malessere generale e se cessa il palpito cessa la vita noi siamo morti non con la morte cerebrale attenzione noi siamo morti quando si ferma il cuore quindi la potenza di un atto solo continuamente ripetuto è grande molto grande ma molto più l'atto solo di un dio che tiene virtù di far tutto con un solo atto perciò né il passato né il futuro esiste in questo atto e chi vive nella mia volontà attenzione nella terminologia tecnica che dovremmo ormai ben conoscere chi vive nella mia volontà si trova già in quest'atto solo e come il cuore fa sempre un palpito nella natura umana che si costituisce vita di essa così guardate che bello la mia volontà nel fondo dell'anima palpita continuamente ma vi rendete cioè ma ci rendiamo conto ragazzi ma di un palpito solo e come palpita le dà la bellezza la santità la fortezza l'amore la bontà e la sapienza ah oh ce la dà a noi questa roba qui la bellezza la santità la fortezza l'amore la bontà e la sapienza ma capite perché io tante volte ho detto se uno ci crede a queste cose è finito tutto cioè tutte quante le energie interiori sono convogliate qui per forza d'accordo cioè a meno che uno non è folle questo palpito racchiude cielo e terra è come circolazione di sangue come circonferenza di luce si trova nei punti più alti nelle parti più estreme dove questo atto solo questo palpito dell'anima tiene pieno vigore e regna continuamente continuamente non bisogna mai uscire dalla divina volontà mai è un prodigio continuato attenzione un prodigio continuato e non appariscente non pensate che se incontrate uno che viene nella divina volontà c'ha l'aureo intorno alla testa c'ha le ali dei piedi oppure c'ha le ali di dietro vola o va in lievitazione a dieci metri da terra insomma non succede niente tutto questo qui un prodigio continuato il prodigio che solo sa fare un dio e perciò si scoprono in lei nuovi cieli e nuova terra nuovi abissi di grazie verità sorprendenti ma se si domanda da dove tanto bene risponderebbe unita al sole insieme col palpito umano e con l'atto solo del dio eterno faccio una cosa sola faccio sempre la volontà di dio e vivo in essa questo è tutto il mio segreto e tutta la mia fortuna io non vorrei aggiungere commenti a queste ultime parole perché sono già molto emblematiche di per se stesse ma limitarmi a dare appuntamento alla prossima puntata se dio vuole martedì prossimo stesse frequenze e stessa ora la mia benedizione fiat ave maria grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti